Bene ritrovati amici telespettatori, io sono Gabriele Gobbo e questa è una nuova puntata di FWG Tech. Oggi parleremo di cose che si possono fare gratuitamente su internet. Ben rientrati in studio, sono Gabriele Gobbo e questo è FWG Tech, la tecnologia spiegata in tv. Oggi proviamo a vedere alcune cose interessanti che si possono fare gratis su internet. Ormai lo sappiamo sul web, con le app nei telefonini, ci sono tantissime cose che si possono fare gratuitamente. Pensiamo ad esempio a capire i percorsi con le mappe di Google, oppure possiamo produrre dei contenuti per i social media. Insomma ci sono tantissime possibilità. Modificare le foto, modificare gli audio, fare dei montaggi video. Oggi guarderemo e capiremo alcune cose gratuite, quindi che si possono utilizzare senza pagare abbonamenti, almeno nelle versioni di ingresso, che sono davvero interessanti e possono essere utilizzate con gli smartphone, con i computer e con i dispositivi, io direi moderni, ma insomma sono compatibili anche con dispositivi di diversi anni fa. Questo è una delle cose belle di internet. Trovare tool e attrezzi digitali per permetterci di fare delle cose, per imparare, per produrre, eccetera. E allora io andrei subito ad iniziare con una cosa molto utile, sempre più utile al giorno d'oggi. Parliamo delle traduzioni. Conosciamo tutti il traduttore di Google, lo usiamo probabilmente molto spesso, ma c'è una app, un sito, una piattaforma che addirittura potrebbe essere migliore nelle traduzioni. Perché utilizza l'intelligenza artificiale? Esiste da molto tempo, è molto utilizzato, viene mantenuta, aggiornata molto spesso. E parliamo di Dipl. Scusate se lo dico così che non si capisce, ma sono nel sottopancia. Vediamo il nome completo. E lo troviamo sia come sito web, sia come app per i vari dispositivi. Permette ovviamente di tradurre gratuitamente da e per tantissime lingue. Possiamo partire dall'italiano e tradurre in inglese, in cinese, in tedesco, in spagnolo, insomma praticamente quasi tutte le lingue del mondo. La cosa interessante è che ci dà spesso anche delle alternative. Possiamo decidere se un inglese, chiamiamolo generale, oppure inglese britannico. Possiamo incollare il testo che vogliamo tradurre e poi copiare il testo tradotto. Io trovo che abbia una traduzione di un ottimo livello. La parte gratuita permette già di tradurre testi abbastanza lunghi, oppure inserirne, dividendoli, inserirli più volte e quindi generare diverse traduzioni che poi possiamo ricomporre. La traduzione, pensate, è velocissima. Quindi potete andare a provarlo nel sito oppure sulla app cercando il nome che abbiamo messo nel sottopancia. Poi ci sono dei tool molto interessanti che possono andare bene per le aziende, per i privati, per chi vuole iniziare a lavorare sui social media o con i social media. Ognuno di noi ha tantissimi, probabilmente, account su diversi social e deve pubblicare a mano su ognuno di essi. Ma ci viene in aiuto PostPeaker. Ne abbiamo già parlato in passato. È una piattaforma che permette di gestire contemporaneamente più social network. Quindi, se devo pubblicare un video su diverse piattaforme, posso farlo da un unico, diciamo, centro di controllo, carico il video, metto il testo e con un clic lo pubblicherà sulle piattaforme a cui mi sono collegato. Anche qui l'utilizzo è totalmente gratuito. Possiamo gestire più piattaforme. Contemporaneamente, ad esempio, Facebook, LinkedIn, Instagram. Possiamo pubblicare post, reel, possiamo pubblicare le stories. Insomma, possiamo programmare addirittura prima in un calendario e programmarci, scusate se ripeto la parola, ogni post, una volta al giorno, una volta a settimana. Insomma, possiamo programmare nel tempo tutti i post che vogliamo, così da non dimenticarci e la piattaforma farà tutto da sola. Addirittura posso far ripetere lo stesso post una volta al mese, così perdo ancora meno tempo. Secondo me, molto utile. Sempre rimanendo sui tool gratuiti e parlando di lingue, c'è una app, una piattaforma per imparare le lingue in maniera semplice e divertente. Io direi che è il caso di fare intervenire la nostra inviata virtuale generata con l'intelligenza artificiale che ha generato sia i contenuti, sia le immagini e la voce. Quindi vorrei far parlare di Duolingo, la nostra inviata digitale. A te la linea. Grazie della linea, Gabriele. Oggi vi parlerò di una piattaforma molto utilizzata per l'apprendimento delle lingue, particolarmente adatta per chi è alle prime armi, Duolingo. Questo strumento è gratuito e disponibile sia su smartphone che su computer. È progettato per rendere l'apprendimento delle lingue accessibile a tutti. Con esso è possibile studiare diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco e molte altre. Una delle sue caratteristiche principali è l'approccio basato sul gioco. Le lezioni sono strutturate come livelli da completare, rendendo l'apprendimento simile a un gioco. Ogni lezione è breve e interattiva, permettendo di studiare anche con poco tempo a disposizione. Le lezioni coprono vari argomenti come vocaboli, grammatica o pronuncia e si possono completare al proprio ritmo, rendendo l'apprendimento flessibile. Inoltre, l'app utilizza un sistema di punti e ricompense per motivare gli utenti. Completando le lezioni, si guadagnano punti esperienza e si può monitorare il proprio progresso. Ci sono anche obiettivi giornalieri e sfide per mantenere l'interesse. Per aiutare a memorizzare meglio, l'app ripropone periodicamente i vocaboli e le frasi già apprese. Questo metodo, chiamato ripetizione spaziata, è utile per consolidare le conoscenze nel tempo. Inoltre, offre una componente sociale. È possibile seguire i progressi degli amici, partecipare a discussioni nella community e competere nelle classifiche settimanali. Questo aggiunge un elemento di interazione all'apprendimento. Un altro grande vantaggio è che è completamente gratuito. Esistono opzioni premium che offrono funzionalità aggiuntive, ma la versione base dell'applicazione fornisce tutto il necessario per iniziare a imparare una lingua. In conclusione, Duolingo è utile per chiunque voglia imparare una nuova lingua in modo semplice e gratuito. Le lezioni brevi, il sistema di ricompense e l'accesso gratuito rendono l'apprendimento delle lingue più accessibile. A te la linea, Gabriele. Molto bene, molto bene. Grazie mille. Sei stata molto chiara. E per continuare con i tool gratuiti vorrei parlarvi di Canva. Ne abbiamo anche di questo già parlato. La versione gratuita vi permette di fare praticamente già tutto e serve a impaginare, fare grafica, fare dei volantini, fare dei post, addirittura fare delle animazioni video con i testi che scorrono, che entrano. Insomma, davvero molto utile. La versione gratuita, pensate, mette già a disposizione un migliaio di template grafici già pronti. Quindi avremo una grafica di base spesso anche molto bella, solo da intervenire per modificare, cambiare i testi, cambiare le foto. Mette a disposizione anche già alcune centinaia, se non migliaia di foto gratuite che possiamo utilizzare senza spendere soldi per le nostre grafiche. Possono essere grafiche di tutti i tipi. Abbiamo detto dei volantini, post social, ma anche, perché no, delle presentazioni e dei file impaginati come della carta intestata. Insomma, possiamo fare di tutto. È un tool di grafica, ma ultimamente anche ottimo per montare dei video, che possiamo usare con lo smartphone. Quindi spostiamo gli elementi, trascinandoli, li ingrandiamo, li rimpiccioliamo, oppure col computer direttamente sul web, oppure con un tablet che ha lo schermo un po' più grande di uno smartphone, e possiamo muovere gli elementi, come interessa a noi, e generare un'immagine da pubblicare, delle forme che vi servono. Un A4, un quadrato per Instagram, una Stories verticale, un 16-9, insomma, davvero le misure che possono servire a tutti gli ambiti, in cui possono essere pubblicate o utilizzate ed esporta in vari formati anche il PDF per la stampa. È davvero molto interessante e anche questa è gratuita. Ma poi un'altra cosa che possiamo fare gratuitamente è ascoltare musica. Ci sono tantissime piattaforme, da quelle dei podcast a quelle della musica, la più famosa Spotify, anche qui con l'abbonamento gratuito, ovviamente sentiremo degli spot pubblicitari, possiamo ascoltare milioni di brani, creare e gestire o ascoltare le playlist di altri, oppure gestire le nostre. È davvero tantissima musica divisa per generi, per album, insomma. Per chi non lo conosce vale la pena di scaricarlo e di iscriversi gratuitamente per ascoltare tutta la musica, direi, quasi esistente. E ovviamente c'ha la funzione per iscriversi ai podcast. FWG Tech è presente fra i podcast su Spotify. Potete anche qui iscrivervi gratuitamente. Prima abbiamo parlato di grafica. Assieme alla grafica possono andare a braccetto i siti web. Tutto quello che sto dicendo è dedicato anche ai meno esperti. Attenzione! Se vogliamo pubblicare un sito web, oltre che a costruirlo, pubblicarlo, e abbiamo un indirizzo Gmail, possiamo accedere a Google Sites. Google Sites attraverso un'interfaccia molto semplice ci permette di costruire pagine web e quindi da lì collegarle e farle diventare un unico sito internet completo perché abbiamo la possibilità di fare il menu di navigazione. Possiamo inserirci immagini, foto, testi, titoli, video da YouTube, la mappa di Google. Quindi se abbiamo un negozio e vogliamo un sito web, perché no? Possiamo descriverlo, mettere le foto, mettere la mappa per farci raggiungere in modo più semplice. Anche in questo caso possiamo spostare gli elementi col mouse dove ci interessa di più, ingrandirli, rimpicciolirli e anche questo in maniera gratuita e molto semplicemente. Sebbene un sito web professionale sia complicato da costruire, servano spesso dei professionisti, per un sito web entry level, secondo me Google Sites è la soluzione più adeguata anche perché è gratuito. Come abbiamo visto internet è piena di servizi gratuiti, dalla piccola funzione ad esempio per sapere quanto vale il dollaro oggi o la storia di quanto valeva nei giorni scorsi a quello che ci calcola l'IVA o la ritenuta da conto, alle mappe di Google. Insomma, qualsiasi cosa ci serva, secondo me, da qualche parte c'è una soluzione gratuita. La cosa più furba da fare è cercarle col solito Google o un altro motore di ricerca e provare, perché spesso ci sono delle piccole chicche nascoste che non conoscono in molti, che non sono famose, che però fanno quella funzione, magari piccola, che ci serve quotidianamente. Ovviamente non dimentichiamoci poi che c'è GPT o le altre intelligenze generative artificiali, artificiali, intelligenze artificiali generative, per meglio dire che attraverso un prompt, una richiesta, ci danno dei risultati. Io ad esempio utilizzo spesso e consiglio di utilizzare chat GPT con la funzione chiedendogli di correggere i testi, così se dobbiamo scrivere degli articoli e anche mandare un messaggio lungo o un'email può aiutarci con la correzione. Ovviamente magari il testo lo scriviamo noi e chiediamo a chat GPT di correggere la grammatica, la sintassi, le maiuscole di un nome proprio e così via, se non addirittura scrivere in maniera professionale un'email che abbiamo buttato giù in bozza. Insomma, ormai con internet ci sono davvero tantissime possibilità. E poi non dimentichiamoci che spesso questi tool o tool similari, con molte più funzioni o per aggiungere funzioni, hanno una piccola fee da pagare al mese, spesso è anche abbastanza bassa, quindi se lo utilizziamo per lavoro molto spesso possiamo magari pensare di pagare un piccolo abbonamento. Ad ogni modo, gli esempi che abbiamo fatto qui oggi sono tutti ad utilizzo e gratuito e quindi perché no, andate, sperimentate e provateli. Da Gabriele Gobbo è davvero tutto, la puntata di FWG Tech finisce qui, gettate il telecomando, rimanete con noi con i programmi che sono in arrivo tra pochissimo. È davvero tutto, da Gabriele Gobbo un saluto e ci vediamo la prossima settimana. FWG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube e tutti i social network. www.fwgtech.it